E' importante questa indagine perché è un traffico di droga che ha riguardato almeno un quarto del territorio della provincia di Cosenza, tutta la valle dell'Esero, è un traffico di droga connotato da molta violenza, perché la famiglia che lo gestiva è una famiglia di indrangheta e quindi abbiamo molti episodi di pestaggi, di spedizioni punitive proprio a chi non pagava. Abbiamo un traffico sistematico per quanto riguarda la venda della cocaina che veniva dalla provincia di Reggio Calabria e anche un traffico consistente di marijuana. La caratteristica è che in modo mafioso controllavano in modo minuzioso tutto il loro territorio, nessuno poteva ovviamente andare a vendere droga se non facente parte di questa famiglia di indrangheta, e era talmente asfissiante la venda e il controllo che anche, come diceva prima il dottore Messina, anche la squadra di calcio del Ruggiano, l'allenatore e i calciatori compravano la cocaina da questa famiglia. Questa è un'attività che ha riguardato una parte nord del territorio della provincia silana sostanzialmente, che in qualche modo ha portato all'individuazione di quest'area, di questa cosca, di indrangheta, cosca abbastanza nota, particolarmente ferata, che ha rapporti anche con l'andrangheta Regina e che ci ha consentito in qualche modo di individuare questa massiva attività di spaccio di stupefacenti che sostanzialmente nascondeva una capacità altrettanto massiva di controllare capillarmente il territorio, la possibilità di ottenere una provvista da utilizzare attraverso queste attività, tra virgolette, dei militari, da utilizzare per sovvenzionare il capo zona, insomma, il noto presta, nonché tutti i soggetti che fanno parte dell'organizzazione e che sono in stato di arresto. E oltretutto una sorta di bilancio di almeno un milione all'anno, insomma questo è il calcolo, diciamo, dell'impegno economico e del profilo economico che consentiva anche di pagare gli accoliti. Quindi sicuramente una metodologia mafiosa anche nello spaccio degli stupefacenti, una organizzazione militare gerarchicamente appunto strutturata, una capacità di controllare il territorio e di far valere il proprio potere mafioso. Abbiamo in qualche modo disarticolato, anzi l'abbiamo senz'altro disarticolata, abbiamo proceduto al sequestro di circa 2 milioni di beni patrimoniali, di beni immobili e continueremo in questa attività perché noi oltre alla neutralizzazione dobbiamo pensare a togliere, a eradicare dal territorio questa mala pianta. Per fare questo dobbiamo prima neutralizzare l'apparato militare, questo stiamo facendo e proseguiremo anche ulteriormente su questo piano. Questa indagine non ci si è avvalsi specificatamente con riferimento alle contestazioni che sono state mosse agli indagati di collaboratori, anche se qualche profilo di dichiarazione di collaborazione è servito per dare il quadro dell'ambito territoriale del contesto di Indrangheta nel quale questa associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti si è mossa. È stata un'indagine prevalentemente portata avanti con le attività tecniche, con attività tradizionali di investigazioni. La qualità dell'investigazione è stata proprio nell'individuare gli obiettivi che hanno consentito di penetrare poi questa rete di relazioni che costituisce la struttura dell'associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti nella valle dell'Esaro. Il profilo di questa organizzazione, per la quale è contestato anche il carattere armato dell'organizzazione perché sono state individuate anche le disponibilità di armi da parte dell'organizzazione, come è stato detto è un'organizzazione che si radica in un contesto di Indrangheta e gli esponenti di vertice di questa organizzazione sono esponenti che gravitano nel contesto di Indrangheta della provincia cosentina, in particolare dell'area di riferimento appunto, con collegamenti con esponenti della criminalità organizzata della provincia reggina per quanto riguarda l'attività di approvvigionamento della cocaina. La caratteristica del radicamento nel contesto di Indrangheta ha consentito all'organizzazione stessa di monopolizzare il traffico della cocaina in particolare, cioè l'attività del traffico della cocaina era esclusivo appannaggio dell'associazione, controllava qualsiasi modalità di traffico della stupefacente cocaina, tant'è che gli esponenti dedicati al traffico della cocaina non traevano i proventi direttamente dallo spaccio della sostanza stupefacente ma venivano stipendiati dai vertici dell'associazione, quindi tutto il provento del traffico della cocaina doveva confluire in questa cassa comune dell'associazione per la quale c'era una contabilità minuziosa dei due fratelli Presta che erano i vertici dell'associazione, una contabilità che teneva conto anche delle necessità di parenti e possiamo dire soggetti di livello superiore anche nel panorama andranghettistico, il sostentamento, il pagamento delle spese legali, il sostentamento anche dei viaggi necessari per i colloqui carcerari che venivano fatti. Quindi una organizzazione ben strutturata sul territorio, radicata come dicevo, che monopolizzava completamente il traffico della cocaina.